Sanità e tempo di nomine dei primari alla ASL Per cardiochirurgia in arrivo un figlio d'arte Cronaca si arrampica per rubare e precipita dal primo piano Gravissimo un albanese Giulia Nova ex FOMA abbandonato da area residenziale Al ritrovo di tossicodipendenti Rapina in quattro rubano nel supermercato e feriscono una vigilantes Arrestati E per lo sport e calcio il teramo è vicino all'acquisto dell'esterno Luca Di Matteo Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleponte Apriamo con la cronaca il nostro telegiornale L'agenzia italiana del farmaco ha disposto il divieto di utilizzo Di due lotti del vaccino anti-influenzale Fluad A seguito delle segnalazioni di tre eventi fatali Verificatisi in concomitanza temporale Con la somministrazione di dosi provenienti dai due lotti 142.701 e 143.301 del vaccino anti-influenzale Fluad Della Novartis Vaccines and Diagnostics SRL L'AIFA rende noto di aver disposto a titolo esclusivamente cautelativo Il divieto di utilizzo di tali lotti Due delle morti sospette legate alla somministrazione del vaccino anti-influenzale Fluad Secondo quanto si apprende sarebbero avvenute in Sicilia ed una in Molise L'AIFA ha bloccato l'utilizzo dei due lotti del vaccino in questione Gli uffici della regione Abruzzo abbiamo sentito L'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci qualche minuto fa Stanno facendo le verifiche per accertare che tipi di vaccino anti-influenzale Sono a disposizione in Abruzzo e domattina Se ne saprà di più In attesa di disporre degli elementi necessari Tra i quali l'esito degli accertamenti sui campioni già prelevati Spiega l'AIFA in una nota Per valutare un eventuale nesso di causalità Con la somministrazione delle dosi dei due lotti del vaccino L'Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto a titolo esclusivamente cautelativo Il divieto di utilizzo di tali lotti come abbiamo detto L'AIFA invita i pazienti che abbiano in casa confezioni del vaccino Fluad A verificare sulla confezione il numero di lotto Esse corrispondente a uno di quelli per i quali è stato disposto Il divieto di utilizzo a contattare il proprio medico Per la valutazione di un'alternativa vaccinale Se sono passate 48 ore dalla somministrazione Non ci sono rischi Se qualcuno dovesse presentare invece dei sintomi Entro due giorni deve contattare il proprio medico E lo afferma il segretario della Federazione Italiana dei Medici Di Medicina Generale Giacomo Milillo in merito al ritiro da parte dell'AIFA Dei due lotti del vaccino anti-influenzale Fluad I lotti bloccati dall'AIFA del vaccino anti-influenzale della Fluad Dopo tre morti sospette Non sono comunque disponibili e venduti nelle farmacie Secondo quanto si apprende Infatti i lotti del vaccino incriminati Erano disponibili solo nel canale pubblico Presso i medici di famiglia Come vi dicevo in apertura abbiamo sentito al telefono L'assessore regionale alla sanità Silvio Palucci Ci ha detto che stanno verificando in regione Quali sono i vaccini anti-influenzali presenti nelle strutture ospedaliere Tra i medici di famiglia abruzzesi Quindi quali tipi di vaccini per cercare di tranquillizzare la popolazione Ma purtroppo sapremo qualcosa di più solo domani mattina Dopo la delibera con cui è stato dichiarato decaduto Il direttore sanitario Camillo Antelli Il direttore generale dell'ASL di Teramo Fagnano Si appresta a nominare non solo il suo sostituto Ma anche i primari di importanti reparti Tra questi una particolare novità Riguarda la cardiochirurgia dell'ospedale Mazzini di Teramo Il servizio Il padre lo fondò Il figlio oggi è il primo candidato A raccoglierne l'eredità e a dirigerlo Il reparto è quello di cardiochirurgia dell'ospedale Mazzini di Teramo Il figlio d'arte è Marco D'Eusanio Primo genito di Giuseppe Pioniere della chirurgia cardiotoracica teramana nel mondo E' il primo nome sull'agenda di Roberto Fagnano Al quale il direttore generale dell'ASL di Teramo Dovrebbe affidare l'incarico di primario del reparto teramano D'Eusanio, 41 anni Una formazione bolognese passata attraverso le esperienze internazionali In Olanda, Germania, Stati Uniti e anche Cina Diventerebbe uno dei direttori di unità operativa complessa Più giovani della sanità regionale Suo padre nel dicembre del 79 Avviò l'attività di un reparto che ha fatto scuola E ha formato medici di alta professionalità Come Gregorini, Mazzola e Villani Quest'ultimo reggente fino ad oggi D'Eusanio dovrebbe essere nominato entro Natale Come anche Nicola Serroni per salute mentale Antonello Troiano per oculistica Sempre a Mazzini E Stefano Minora ad anestesia e rianimazione di Giulia Nova La necessità di arrivare agli incarichi di primariato entro un mese al massimo Lo ha ribadito lo stesso Fagnano Sottolineando anche l'importanza della nomina di un direttore per la radiologia di Teramo Intanto il responsabile della sanità teramana Ha chiuso, come annunciato nei giorni scorsi, la pratica direttore sanitario Dichiarando decaduto Camillo Antelli E si appresta a diminduare il successore nelle prossime ore, al massimo lunedì Il nuovo responsabile sanitario sarà il medico vastese Angelo Muralia Ex capo dell'agenzia sanitaria regionale sotto il governatore Chiodi Responsabile dell'ufficio attività ispettiva e controllo di qualità della regione Abruzzo Sette anni e mezzo di reclusione è la condanna che i giudici del Tribunale di Teramo Hanno inflitto a Fabrizio Toti di Terracina Per una rapina alla filiale Tercas di Via Savini in pieno centro a Teramo Commessa nell'ottobre del 2012 L'uomo fu arrestato nell'agosto del 2013 Quando l'ordinanza di custodia cautelare gli venne notificata in carcere Dove era rinchiuso per altri reati Secondo i carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Teramo E oggi anche per i giudici del Tribunale Fu lui il rapinatore solitario che il 12 ottobre del 2012 Si presentò alle casse della filiale, travisato con parrucca e occhiali E che dopo aver assaltato il bancone dell'istituto di credito Teramano E aver colpito uno dei cassieri con un violento schiaffo Al volto si dileguò per le vie cittadine con un bottino di 46 mila euro circa L'ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata emessa dal GIP del Tribunale di Teramo Domenico Canosa su richiesta del pubblico ministero Irene Scordamaglia A inchiodare Toti fu un'impronta della mano Lasciata sul bancone dell'istituto di credito Ma a lui si risalì anche grazie ai filmati di videosorveglianza della banca Il nuovo piano del traffico del comune di Teramo racimola parcheggi Ma conta anche di raggranellare soldi utili a ossigenare le casse del comune Grazie a un aumento che da 485 stalli passi a 1.010 Dopo le perplessità sollevate dalla Tercop sul ritorno economico Che il comune prospetta per valutare una gestione improprio degli stalli Il sindaco di Teramo Brucchi spiega le scelte Ma tranquillizza anche sulla preoccupazione dei posti di lavoro a rischio Dell'attuale gestore della Tercop Sentiamo Si consuma a colpi di numeri il dibattito sulla gestione improprio dei parcheggi Da parte del comune Che prevede di incassare 1.668.000 euro da una gestione diretta Secondo Leo Iachini però Il presidente della cooperativa che attualmente è in affidamento agli stalli Il sindaco gonfia un ritorno economico Per giustificare un'operazione che non è numeri per reggersi Il calcolo per il sindaco Brucchi è presto fatto Rispetto agli attuali 485 stalli a pagamento Lo studio rimesso dagli ingegneri che hanno redatto il piano urbano del Teramo Traffico prevede l'innalzamento a 1.010 posti totali che potrebbero essere tutti a pagamento o anche solo l'80% di essi Non rientra nel computo di questa cifra la quota parcheggi che il comune riserverà ai residenti E un'ulteriore percentuale fissata per legge del 30% di stalli gratuiti Il calcolo è stato effettuato prevedendo in media il pagamento di 1 euro a ora per 4 ore al giorno Per ogni stallo su 265 giorni all'anno escludendo i festivi Il comune non esclude nemmeno di poter aumentare a 2 euro il pagamento degli stalli centralissimi Per favorire così il turnover e la sosta breve Ecco come si giustifica quindi la cifra superiore al milione di euro resa dal sindaco Brucchi Soltanto come Madonna delle Grazie spiega il primo cittadino dove sono stati conteggiati 265 parcheggi a 1 euro l'ora Il comune prevede di guadagnare 386.000 euro Se consideriamo oggi che ne incassiamo 200.000 complessivamente dalla Tercop è chiaro che l'operazione è il suo ritorno Anche il sistema delle sanzioni che attualmente col semplice controllo dei ticket e a maglie larghe avrà la sua incidenza economica Il sindaco stempera tuttavia le preoccupazioni sui posti di lavoro a rischio Abbiamo un quadro economico finanziario che per mille e dieci parcheggi tanti ne potremo ricavare all'interno della città Con una serie di interventi il comune incasserebbe in circa 1.600.000 euro Considerando la tariffa tra 1 euro e 2 euro e considerando soltanto 4 ore al giorno Stante questa situazione è chiaro che valuteremo il discorso di magari gestire il servizio Utilizzando del personale per quanto riguarda il servizio del traffico Noi teniamo in grande considerazione i lavoratori della Tercop Così come teniamo in grande considerazione i lavoratori della Team, del Ruzio e di tutte le società Che in qualche modo lavorano per questo territorio E restiamo in comune a Teramo Il Consiglio Comunale di Teramo ha approvato a maggioranza l'assestamento generale dell'esercizio finanziario 2014 Nella seduta di oggi della Sisee Civica a Palazzo di Città Il documento contabile su cui ha relazionato l'assessore comunale al bilancio Eva Guardiani Ha ottenuto i voti favorevoli di 20 esponenti della maggioranza Il ventunesimo, Mimmo Sbraccia, non era presente al momento del voto La minoranza ha votato no all'assestamento di bilancio Il punto riguardante invece le prospettive future della Team In accordo tra maggioranza e minoranza era già saltato prima dell'inizio del Consiglio Comunale di oggi In quanto va ricalcolato il valore delle quote della società partecipata che si occupa di igiene urbana Infatti dopo la giudicazione del servizio analogo di igiene urbana nel comune di Giulianova I valori per le quote della Team vanno automaticamente ricalcolati Perché saranno sicuramente aumentati Il collegio dei valutatori rimetterà la valutazione tra domani e lunedì prossimo E molto probabilmente l'argomento Team approderà nella question time dell'11 dicembre prossimo a Teramo Partono sempre dai banchi della maggioranza le critiche mosse all'amministrazione su alcune scelte politiche L'occasione è stata offerta dai contenuti dell'assestamento di bilancio al consigliere di maggioranza Dodo di Sabatino che contesta il mancato dibattito su scelte impattanti Quali la Team che secondo il consigliere dovrebbe essere privatizzata Ma anche sui servizi scolastici sui quali i cittadini hanno fatto sentire la loro voce Consigliere Di Sabatino, l'occasione dell'assestamento del bilancio è stata colta da lei per rifare il punto politico della situazione Nel senso, lei ha contestato alcune scelte dell'amministrazione In termini di poca condivisione ad esempio sulla Team Mancata comunicazione su scelte importanti come le tariffe degli asili Lei cosa sostiene? Io ritengo che la questione della Team per come sia uscita dal conclave Sia sicuramente una visione parziale Nel senso che questo è un dibattito che ha bisogno di un approfondimento molto più ampio Io ho la mia posizione che è quella che la Team sia il più possibile in mani privati E il meno possibile in mani al pubblico E poi chiaramente questa è una posizione che va ampiamente spiegata Non può essere ora confinato uno slogan E poi per quanto riguarda invece il discorso della comunicazione Che oggettivamente in questi mesi di amministrazione ha penalizzato fortemente L'attività amministrativa che l'ha giunta a profuso Perché è evidente che insomma su alcune questioni In particolare riguardanti la pubblica istruzione Credo che si sia fatto spesso un elastico che non aiuta anche La scelta che poi viene compiuta in maniera definitiva Io credo che sia importante quindi ribadire che tutte le scelte Per quanto dolorose e difficili che andranno purtroppo assunte nei prossimi mesi Perché ricordiamo che dal primo di gennaio sarà l'armonizzazione contabile Che creerà uno scisma in quello che è diciamo la gestione degli enti locali Tutte queste scelte andranno opportunamente anche temporalmente motivate e comunicate Lei ad esempio ha contestato anche le spese fuori controllo Quella ad esempio quella della pubblica illuminazione Beh guardi quello le contesto sin da quando ero assessore al bilancio E me è un problema annoso che purtroppo e mi sembra sia ormai in crescita importante 1.600.000 euro per la pubblica illuminazione Una cifra esorbitante e questo comune anche per i motivi che dicevo prima Non può più consentirsi non più può permettersi in un bilancio di prossima approvazione Che vi ricorderò insomma che come ho detto prima Ha una forte preminenza dell'aspetto di cassa Per cui si potrà soltanto spendere quello che si incasserà È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Mazzini di Teramo Un albanese di 38 anni precipitato ieri sera dal primo piano di un condominio a Sant'Egidio alla Vibrata Da un balcone al quale si era arrampicato attraverso una grondaia Nel tentativo di entrare in un appartamento per compiere un furto L'uomo, irregolare in Italia e senza fissa dimora Era stato notato dal proprietario dell'abitazione cercando di fuggire Aveva perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra e battendo la testa Sulle prime si era rialzato nonostante fosse ferito E aveva anche ingaggiato una colluttazione con i carabinieri della stazione Sant'Egidiese Intervenuti su richiesta del proprietario dell'appartamento Ma era stato poi necessario il suo ricovero al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Omero Qui i sanitari lo hanno visitato e gli hanno diagnosticato due fratture a una gamba e un ematoma cerebrale Per cui hanno deciso il trasferimento al nosocomio del capoluogo a Teramo Le indagini dei carabinieri hanno accertato che lo stesso albanese Avesse raggiunto la zona a bordo di un autocarro rubato martedì scorso in provincia di Chieti E che a bordo ci fossero arnesi da scasso Per questo motivo è stato denunciato anche per ricettazione Oltre che per tentativo di furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale E quattro cittadini stranieri di nazionalità romena Due uomini e due donne sono stati arrestati dagli agenti della scuola mobile Per una rapina nel supermercato i persimpli di Pianodaccio a Teramo I quattro, secondo la segnalazione fatta dalla vigilanza alla polizia Avevano arraffato merce di varia natura dagli scaffali del punto vendita Per un valore di circa 200 euro E avevano oltrepassato le casse per allontanarsi I vigilanti avevano tentato di bloccarli ma erano stati strattonati E una di esse, anche ferita, medicata al pronto soccorso E stata giudicata guaribile in 11 giorni I quattro erano fuggiti a bordo di una Opel Astra La cui targa è stata annotata e segnalata al 113 Le ricerche avevano permesso di individuare La macchina nei pressi di Sant'Omero, una frazione Cascioni Qui i romeni sono stati bloccati e parte della refurtiva rinvenuta Nell'abitazione dove risiedono sono state recuperate tre borse Utilizzate come contenitori della refurtiva Dotate anche di schermatura idonea Per eludere i sistemi antitaccheggio dei supermercati E' stata trovata anche altra merce Soprattutto generi alimentari e bigiotteria Rubata nella mattinata precedente In altri esercizi commerciali della zona Tre di loro, di età compresa tra 21 e 29 anni Sono stati posti agli arresti domiciliari In attesa del processo Mentre una quarta persona, minorenne È stata affidata a una struttura Del Tribunale dei minori dell'Aquila Partiranno a breve i lavori da 100.000 euro Per la sistemazione della strada di Miano Un tratto colpito anche da una frana Che non è mai stata rimossa nei pressi di Sparazzano Per il rifacimento ci vorrebbero molti più fondi I cittadini tornano a chiedere l'intervento di regione e provincia Il servizio Ennesimo appello alla regione Abruzzo Per rimuovere la frana ventennale Sulla strada di Miano Nei pressi di Sparazzano A sollecitare la regione Sono i cittadini della frazione Teramane Maurizio Verna Neoassessore provinciale Consigliere comunale di Teramo del PD Il comune, su iniziativa dello stesso Verna Ha già inoltrato all'amministrazione regionale La richiesta di modifica del PAI Per ricomprendere il tratto di strada Dove insiste la frana Nella categoria zona R4 Ovvero quella a più alto rischio di dissesto idrogeologico In questa maniera arriverebbero fondi mirati Per sistemare definitivamente l'arteria Richiesta che finora non è stata ancora evasa Ma la strada di Miano ha diverse criticità Causate da frane e smottamenti Che negli ultimi anni si sono creati Soprattutto a causa del maltempo Dalla vecchia amministrazione provinciale Erano stati stanziati 100.000 euro Pochi per sistemare la strada I soldi fanno parte dei 20 milioni di euro Stanziati per l'alluvione del 2011 Secondo Maurizio Verna Alla strada di Miano Che è una delle più danneggiate dalle piogge Andavano destinati più fondi Comunque i lavori per 100.000 euro Sono già stati appaltati e partiranno presto Purtroppo però, dice Verna Serviranno solo a mitigare i problemi L'assessore provinciale ha comunque annunciato Che la nuova amministrazione Si sta già muovendo per reperire ulteriori risorse Per sistemare definitivamente il tratto stradale Che oramai da più parti viene definita Una vera e propria mulattiera Con conseguenti problemi per chi la percorre Sia ai mezzi privati Sia ai mezzi pubblici E tra l'altro recente la polemica Che ha coinvolto il servizio di trasporto pubblico Della Baltur Costretta a pesanti spese di manutenzione Per i danni subiti dai mezzi Nel percorrere la strada per la frazione Il presidente della provincia di Teramo di Sabatino Cerca di accelerare dopo la gara andata deserta Per l'affidamento della gestione Degli impianti di risalita dei prati di Tivo Questa sera la riunione con gli imprenditori Dei prati interessati a prendere la gestione È riunione che è esilitata Doveva cominciare alle 18 Sta cominciando proprio in questi minuti Perché c'era anche consiglio provinciale Nel palazzo di Via Milli Questa mattina intanto Renzo di Sabatino Ha incontrato i rappresentanti dell'Unicredit La banca che ha anticipato l'investimento Sulla cabinovia in attesa del finanziamento Dei fondi FAS Di Sabatino ha reso noto Di aver dato disposizione Del trasferimento di un milione di euro All'Unicredit A scomputo del debito accumulato Milione che si aggiunge ai 500 mila euro Già versati Nel corso dell'incontro Definito cordiale La provincia avanzerà una proposta transattiva A stralcio della posizione debitoria Della Gran Sasso Teramano Attualmente tutto il finanziamento FAS 11 milioni e 400 mila euro Ma la provincia fino ad oggi È arrivata solo la prima tranche Di circa 5 milioni e 700 mila euro Non copre la posizione debitoria Della Gran Sasso Teramano Nei confronti di Unicredit Debito che fra capitali e interessi Ammonta a 12 milioni e 400 mila euro Nella originaria stesura del PARFAS Il finanziamento era pari A 12 milioni e 500 mila euro Successivamente Il finanziamento regionale per l'opera È stato ridotto dalla regione A 11 milioni e 400 mila Questa somma va tolta l'IVA E vanno tolti 2 milioni e mezzo Che la Gran Sasso ha già dovuto Rifondere alla regione In quanto inizialmente Aveva ottenuto questa somma Con un altro finanziamento Non cumulabile con il FAS È evidente Ha detto il presidente Della provincia di Sabatino Che siamo di fronte Ad una situazione molto complessa Esiste un nodo di fondo Ed è quello della gestione Di questo tipo di impianti Un nodo che può essere affrontato Solo all'interno di una visione regionale Abbiamo chiesto Continua di Sabatino Un incontro ad Alfonso Per riflettere insieme Alla regione Diciamo che intanto Sarebbe giusto Alla regione Restituirci lo stanziamento iniziale E poi la buona notizia Che riguarda Prato Selva Che il presidente di Sabatino Ci aveva anticipato In un'intervista Martedì scorso Grazie alla collaborazione Del BIM Del comune di Fano e Adriano Infatti Sono stati reperiti I fondi per la manutenzione Straordinaria Degli impianti di risalita Di Prato Selva Ci auguriamo Ha detto ancora di Sabatino Che siano sufficienti Per i lavori Di straordinaria manutenzione Che anche in questo caso Come a Prati di Tivo Sono obbligatori Per la riapertura Bisogna ringraziare il BIM Conclude il presidente Della provincia Per la collaborazione Il comune di Fano e Adriano Per la Solerzia Il comune di Teramo Teme di dover far scelte dolorose In una guerra tra poveri Quando la regione Dal primo gennaio Tornerà ad obbligare Gli enti e gli ambiti sociali A compartecipare Alle spese per la riabilitazione Dei disabili L'assessore al sociale Del comune di Teramo Valeria Misticoni Ha censito per il capoluogo Teramano la presenza Di oltre 100 famiglie Con disabili a carico Assistiti nei centri Riabilitativi E teme che questa spesa Possa costringere l'ente A fare altri sacrifici Sul sociale Vediamo Un'altra tegola Potrebbe cadere Sulla testa Del comune di Teramo Dal primo gennaio Infatti La cosiddetta Compartecipazione Del sistema sanitario Prevede che non sarà più La regione A garantire per intero Determinate prestazioni Anche portatori di handicap Ma saranno i comuni E le famiglie A doversi fare carico Di parte delle spese L'assessore alle politiche Sociali Valeria Misticoni E alle prese In questo periodo Con un conteggio Relativo al numero Dei cittadini Che avranno bisogno Dell'aiuto del comune E soprattutto Alle percentuali Di compartecipazione Di ogni singolo In base alla tipologia Di prestazioni da garantire E a reddito Isee Di ciascun portatore Di handicap La regione Abruzzo Ci ha chiesto In ottobre Novembre Di dover Compartecipare A delle prestazioni Sanitarie Che prima erano A carico della regione Una percentuale Invece adesso Sarà a carico Dei comuni Dalla primo gennaio 2015 Mentre erano tornati Sui loro passi Per quanto riguardava Gli ultimi mesi Del 2014 Ancora a carico Della regione Ma nel frattempo Ci hanno chiesto L'anticipo Delle spese Dal primo gennaio 2015 Questa percentuale Invece sarà a carico Di tutti gli ambiti Sociali Ci hanno chiesto Uno screening Di probabili utenti Noi l'abbiamo fatto Chiedendolo ovviamente Alle strutture Che li ospitavano Erano utenti A noi sconosciuti Perché proprio Perché i comuni Non davano Questo servizio Fino ad oggi E al momento Sono risultati A noi noti 111 utenti Probabili Questo numero Non è magari Totalmente scientifico Nel senso che Potrebbe anche aumentare Perché magari A qualche struttura Potrebbe essere Scappato qualche utente O potrebbero Arrivarene altri Certo che noi Estando così le cose Al momento Non possiamo garantire Il pagamento Di queste Prestazioni A meno che Non decidiamo Di toccare Il sociale Per pagare Il sanitario Teramo è un ambito È un monoambito Un ambito grande 111 utenti Sono molto importanti Anche perché Queste sono prestazioni Costose Ma su questo argomento C'è una novità Su proposta Del vicepresidente Paolo Gatti La quinta commissione Del consiglio regionale Abruzzese Ha deciso Con voti unanimi Di non approvare Le linee guida Per la compartecipazione A carico Degli utenti E dei comuni Per le prestazioni Sociosanitarie In regime residenziale E semi residenziale La commissione Nella sua interezza Ha ritenuto Di disporre L'audizione Della giunta regionale Affinché La delibera Di giunta Possa essere modificata E corretta Nei suoi vizi formali E nella sostanza Sia alla luce Del nuovo ISEE L'indicatore Socio-economico Equivalente Nazionale Sia soprattutto Tenendo conto Del rischio attuale E concreto Per i 305 comuni Abruzzesi Di non poter far fronte A costi enormi C'è confusione E improvvisazione Da parte del governo Regionale Afferma Paolo Gatti Su un tema delicatissimo Come quello Della compartecipazione Fortunatamente Tutti i colleghi Della commissione Dice ancora Gatti Senza distinzione Di parte politica Si sono resi conto Di dover richiedere Spiegazioni e cambiamenti A tutela Dei cittadini Pazienti E dei comuni Da un'area Destinata Centro residenziale Verde e Servizi Si è trasformata In una zona Desolata Ma che sta però Adesso prendendo corpo Con il supermercato E poi con gli alloggi Che si stanno costruendo Questo è un altro Progetto importante Che era stato presentato Al comune Infatti fuori C'è anche la tabella Dei lavori Dalla Diamond Group Di Pineto Ed è una L'area Quella di due Grandi fabbriche Di Giulianova Di quegli anni E cioè Le acerie Del sud E la Foma Acquistata Quest'area Da un gruppo Rosetano Pinetese Per realizzare Qualcosa identico A quello che si fa Nell'ex Che si farà Nell'ex Adam Cioè appartamenti Ma anche tanto verde Parchi Piscine Insomma Un quartiere Residenziale Come quello Dell'ex Adam Ma mentre l'ex Adam È partita Qua invece Siamo in pieno Abbandono Ormai da anni Perché poi Furono costrette Ad abbattere Dei manufatti Che erano qui Perché E perciò diventata Così ampia E non c'è più niente Perché alla fine Quando acquistarono Prima di effettuare Insomma i lavori Che volevano Dovettono abbattere Degli immobili Che c'erano Perché era diventato Come Tutte le parti ormai Dove c'è l'abbandono Rifugio Di rumeni Di albanesi E leggiamo Un articolo di cronaca Pensate da quando Durra la vicenda Di mercoledì 2 settembre 2009 Fiamme All'ex aceria del sud Subito dopo il blitz All'alba di ieri l'altro Da parte dei carabinieri Qualche lampadina Rimassa accesa O qualche fornello elettrico Ha lasciato sprigionare Una scintilla Che si è Avvinte ai materassi Alle lenzuola Agli indumenti Sparsi qua e là Nelle stanze Chiesto l'intervento Di vigili a fuoco Di Roseto Che hanno appunto Poi Spento le fiamme Che era successo? Che c'era stato un blitz E rumeni Albanesi e rom Erano stati quindi allontanati Da questa zona E il giorno dopo Forse qualcuno Per dispetto Mise fuoco A quello che ci restava Allora per evitare Tutto questo Si decise Appunto Di abbattere Quegli edifici Che ancora c'erano Eravamo al 2009 Siamo al 2014 Ma gli edifici Non ci sono più Ma al loro posto Non c'è proprio più niente Pare che ci sono difficoltà A realizzare Questo progetto Ponderamente A quello che è avvenuto Almeno per il primo lotto Dell'ex-Ada Peccato Perché ci sono queste aree Bellissime In una centralissima Via Trieste E poi La possibilità Di poter realizzare Tante cose E dare ancora Un assetto migliore A questa zona Della città In passato A volte Troppo dimenticata Dopo un sopralluogo Effettuato questa mattina Il presidente Della provincia Di Teramo Renzo Di Sabatino Il sindaco di Campli Hanno concordato Di inaugurare La nuova tratta Della Pedemontana Quella che consentirà Di arrivare Con la superstrada Fino a Floriano di Campli Partendo da San Nicolò a Tordino L'apertura è fissata In forma ufficiale Per il 20 dicembre Alle ore 10 L'opera 3 km di superstrada Più 700 metri Di viabilità Di raccordo Con due gallerie E due viadotti Da 400 e 200 metri È stata realizzata In due anni Ed è costata Circa 26 milioni di euro Intanto sono già stati affidati I lavori Per la realizzazione Della rampa di uscita Che costerà Circa 2 milioni di euro E sarà realizzata In sei mesi Dall'inizio dei lavori In attesa Della bretella Di collegamento È stata predisposta Un'uscita provvisoria Con semaforo Che metterà Sulla provinciale 17 All'altezza del bivio Di penna alta Dopo due anni di lavori Riapre domani mattina La galleria Carestia Sulla 24 In direzione L'Aquila Prima del bivio Per Pontevomano A dare la notizia Il consigliere provinciale Maurizio Verna Che ha seguito i lavori E sollecitato la strada La società Strada dei Parchi Per una rapida Conclusione dell'intervento Che si è protratto Ben oltre il previsto Causando In questi due anni Gravi disagi Subiti dai cittadini Di interi paesi Basciano Penna Sant'Andrea Di numerose popolose frazioni Oggi si sono svolte Le prove antincendio Risultate positive Come la relazione Dell'ufficio tecnico Da quanto assicura Una strada dei parchi L'aria apertura Questa volta È definitiva Riferisce Maurizio Verna La regione Abruzzo Recepisce Le linee guida Per contrastare I reati sessuali Soprattutto online Per questo è stato creato Il protocollo Fuori dalla rete Il servizio Sono 30 milioni Gli utenti Che quotidianamente Si connettono Alla rete L'8% di questi Sono minori Che si approcciano Ai telefonini E agli smartphone Senza controllo Dei genitori In Abruzzo Appare elevato Il numero Delle violenze sessuali Di gruppo Tra adolescenti Ma nello stesso tempo È anche la regione Che vanta professionisti Dell'investigazione All'altezza Del difficile compito Di assicurare La giustizia criminali L'Abruzzo È anche la prima regione In Italia A recepire Le procedure operative Per la tutela Dei minorenni Vittime di abuso Sessuale online La città di Pescara Insieme a Catania Torino e Roma Ha fatto parte Del ristretto gruppo Di lavoro Che sotto legida Di Save the Children Ha contribuito Efficacemente All'elaborazione Delle procedure operative Denominate Fuori dalla rete E presentate Ad una vasta Platea di tecnici Nella sala dei marmi Della provincia di Pescara Durante i lavori Sono emerse criticità In merito All'approccio Degli operatori Nella rilevazione E gestione Dei casi di abuso Sessuale online Nei confronti Di bambini e adolescenti Dovute soprattutto Ad una limitata Conoscenza del fenomeno Dali procedure operative Intendono creare Una fitta collaborazione Tra tutti i professionisti Del settore sociosanitario Investigativo Giudiziario E scolastico Per accompagnarli Dalla fase di rilevazione E segnalazione Fino alla presa in carico Psicosociale Delle vittime Promuovendo Un approccio integrato E multidisciplinare Nel rispetto Del superiore interesse Delle vittime Il volume è fuori dalla rete Si compone di 45 pagine E di 9 schede lavoro Che puntualizzano Sul piano lessicale Normativo E della metodica Chi è la vittima Le forme di abuso sessuale I fattori di rischio I fattori protettivi Il ruolo della polizia postale La traccia del colloquio Gli interventi motivazionali Gli interventi sociali Educativi Terapeatici Per le vittime E genitori protettivi Ed infine Indica un format Per la segnalazione Sabato prossimo 29 novembre A Teramo Le 16.30 L'associazione Teramo Nostra Presso la propria sede In via Fedele Romani Un ospiterà La prima giornata Dell'integrazione Sarà proiettato Il film Dragan aveva a ragione Ospiti della giornata Anche Marco Pannella E Rita Bernardini Di Nanna Dei radicali italiani Ha detto Come ci ricorda Papa Francesco L'unità autentica E quella che vive Della ricchezza Delle diversità Che la compongono Sotto l'ombra del tricolore Il titolo del romanzo storico Di Antonio Valerio Fontana Che verrà presentato Domani A Teramo Il servizio L'associazione culturale Nuove sintesi Patrocina La presentazione del libro Sotto l'ombra del tricolore Romanzo storico Scritto da Antonio Valerio Fontana Sicuramente Un libro Che va approfondito Assolutamente Il romanzo Di Antonio Valerio Fontana Sulla conquista Italiana dell'Etiopia Può essere visto Come un duplice attacco Al pensiero Politically correct Sia dell'epoca Sia attuale In primo luogo Perché viene demistificata Una colonizzazione Concepita dalla storiografia Ufficiale Come violenza E come guerra D'aggressione In secondo luogo Perché c'è una componente Imprescindibile All'interno del romanzo Che è la giovinezza Giovinezza Che attualmente è sepolta Dalla società consumista E dai falsi miti Ma che il protagonista Del romanzo Mette a disposizione Della patria Per scrivere Una delle pagine più belle Della storia italiana La nascita dell'impero Dunque sicuramente Un romanzo che farà discutere Ma farà discutere Più che altro Si cerca di far luce Su un avvenimento storico Che viene ancora etichettato Ma è altresì Un'occasione preziosa Per riscoprire Queste gesta eroiche Attraverso il romanzo Il romanzo Verrà presentato Presso la libreria Tempo libero In corso Ceruli 53 A Teramo Alle ore 18 Di venerdì 28 novembre Tutti possono partecipare Assolutamente L'evento è gratuito E aperto a tutti Nuova stagione di teatro A Giulianova Il Festival Terre di Teatri 2014 Che la compagnia Terra Teatro Organizza a Giulianova Da sette anni Presso il centro Socioculturale Annunziata Torna anche quest'anno Dal 28 novembre Da domani Al 15 febbraio Con importanti novità E grandi nomi Il programma del festival Si arricchisce infatti In questa stagione Di nomi quali Sergio Urbini Ambrogio Sparagna E Peppe Servillo Il primo appuntamento Domani subito Con un grande nome Per il cartellone Di teatro di prosa Si parte appunto domani Venerdì 28 novembre Alle 21 e 15 Presso il centro Socioculturale Annunziata Con l'importante spettacolo Di fame Di denaro Di passioni Con Sergio Urbini Musica dal vivo Di Daunia Orchestra Un viaggio Tra la musica E le parole Di Matteo Salvatore Il cantastore pugliese Poeta degli ultimi Che con le sue ballate Ha raccontato Se stesso E la sua quotidianità Domani sera Domani sera alle 22 Presso l'hotel Michelangelo A Teramo Si svolgerà una serata Di raccolta fondi Per le officine indipendenti Romperemo A detto Giorgio Giannella L'imbarazzante silenzio Dell'unidirezionale Amministrazione comunale Teramana Incapace di incontrare La nostra realtà associativa Ma straordinariamente Efficiente Per le richieste Provocanti Provvedimenti D'urgenza Per alcuni cittadini Tramite il generosissimo Concerto Degli E minor place Appunto E' quello che dice Giannella Per questa raccolta fondi Per officine indipendenti Si svolgerà il 30 novembre Prossimo In piazza Progresso A San Nicolò A Tordino Di Teramo La prima mostra Mercato Dell'artigianato artistico Di Natale Organizzata Dal consorzio San Nicolò Shopping Village Saranno circa 30 Gli espositori Che proporranno Oggetti di artigianato Legati al Natale Non mancheranno Pietanze tipiche Delle festività Natalizie In caso di maltempo La manifestazione Si svolgerà Nella sede Della Confcommercio Sempre in piazza Progresso A San Nicolò E adesso è arrivato Il momento Della rubrica Di Giancarlo Falconi Carta canta Vediamo Tutti noi ce la prendiamo Con la storia Ma io dico Che la colpa è nostra È evidente Che la gente Poco sedia Quando parla Di sinistra Ma cos'è la destra Cos'è la sinistra Destra, sinistra Destra, sinistra Destra, sinistra Destra, sinistra Destra, sinistra Basta Ventottesima puntata Di Carta canta Per annunciarvi La limitazione Dei dipendenti Dell'Istituto Braga Che hanno creduto Alla statizzazione Hanno l'anello al naso Noi no Noi no E' per questo Che rispondiamo A tutte le conferenze Stampa Del rettore Scusatemi Del presidente Dell'ARPA Scusatemi Del presidente Del Braga Luciano D'Amico I docenti Del Braga Sono nove mesi Ancora senza stipendio L'Istituto Pareggiato di Ancona Nonostante le promesse Per esempio È chiuso Hanno avuto Un incontro Ultimamente I docenti Con il presidente Luciano D'Amico Con una professoressa Hanno parlato Addirittura Di un Fondo europeo Di circa 1 milione 400 mila euro Insieme al Conservatorio All'Università Di Teramo Conservatorio Abruzzese Non si possono utilizzare Ovviamente Quei soldi Ve lo dico prima Per pagare gli stipendi Ma non sarà sicuramente Questo l'obiettivo Del rettore D'Amico Del presidente Del Braga D'Amico Non sarà sicuramente Questo Che è successo? Nulla Non è successo Nulla Vi ricordo I nove mesi Senza stipendio Dei docenti E arriva Depositata In segreteria Circa una settimana fa L'ottemperanza Del tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio Che dice Che bisogna Continuare Verso la statizzazione Del Braga Benissimo Perfetto Ricalca Quello che aveva detto Il presidente Luciano D'Amico Un po' di mesi fa Durante la campagna Elettorale Per il nuovo Direttore Del Braga Però i problemi Rimangono sempre Gli stessi Quali sono? Non ci sono I soldi Lo ha dichiarato Pochi giorni dopo Il ministro Giannini E lo dichiara Anche il tribunale Regionale Per il Lazio Come? Nella stessa Sentenza di ottemperanza Si legge Il tribunale Il tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio Nell'incidente Di esecuzione Sollevato Così dispone Proroga Fino al 31 12 2015 L'incarico Conferito Con la sentenza In epigrafe Alla dottoressa Maria Grazia Cappuggi Che significa? Significa Che almeno Per il 2015 Non se ne parla Della statizzazione Del processo Della strada Verso la statizzazione E sono molto Ma molto Ma molto Ma molto Preoccupato Per i dipendenti E soprattutto Per la storia del Braga I dati veri Quelli vanno snocciolati 2011-2012 Direzione Castagna 591 iscritti 2012-2013 Direzione Carioti Colangelo Con Pace Che era responsabile Della formazione universitaria 443 iscritti 2013-2014 Direzione Carioti Colangelo Con Pace Responsabile Della formazione universitaria 337 iscritti 2014-2015 Siamo in calo Nel frattempo Bisogna anche risolvere La convenzione Che è scaduta Con la sede di staccata Di Giulianova Ci sono dei piccoli problemi Anche lì Noi Presidente dell'Amico L'anello a naso Ci siamo tolti da un pezzo Con carta canta Previsioni in Abruzzo Al mattino variabile Sulle aree culinarie e montane Parzialmente nuvoloso Sulle aree litorane Nel pomeriggio variabile Sui settori appenninici Parzialmente nuvoloso Sui settori costieri Tra sera e notte Nuvoloso Sulle zone interne E sui rilievi Moderatamente nuvoloso Sulle zone marittime Temperature stazionarie Massime comprese Tra 15 e 18 gradi Nelle conchie aquilane marsicane Tra 19 e 22 gradi Sulle piane adriatiche Venti deboli O moderati sudorientali Mari quasi calmi O poco mossi In provincia di Taramo Al mattino variabile Sulle zone collinarie e montane Parzialmente nuvoloso Sulle zone litorane Nel pomeriggio variabile Sui settori appenninici Parzialmente nuvoloso Sui settori costieri Tra sera e notte Nuvoloso Sulle zone interne E sui rilievi Moderatamente nuvoloso Sulle zone marittime Temperature stazionarie Massime comprese Tra 17 e 20 gradi Nelle pianure dell'entroterra Tra 18 e 21 gradi Sulle coste Venti deboli O moderati orientali Mari quasi calmi O poco mossi Apriamo con il calcio La nostra pagina sportiva Il teramo ha già la testa Proiettata sul mercato Il sodalizio del patron Campitelli Infatti è sempre più vicino All'ingaggio di Luca Di Matteo Questo weekend Il procuratore del calciatore È atteso in città Per discutere con la società Biancorossa I termini economici Dell'accordo Il nodo principale Riguarda la durata del contratto Il teramo offre un biennale Ma cifre inferiori Rispetto agli standard Di Matteo E su questo possibile rinforzo Abbiamo avvicinato Il tecnico Biancorosso Vivarini Di Matteo Ha detto È un giocatore valido Tecnicamente Grazie alla sua esperienza Se arrivasse Potrebbe essere molto utile Alla Rosa In un momento In cui tra l'altro Siamo in difficoltà Per alcuni infortuni Sentiamo Conosci Luca Di Matteo? Sì sì Luca L'ho allenato a Pescara Lui era un ragazzo giovane Di grandi promesse Di grandi aspettative Infatti Pescara Poi l'ha venduto al Palermo Poi lui è cresciuto tanto Ha fatto la sua carriera Ha fatto diversi campionati di B Ha fatto qualche presenza in A Quindi è un giocatore Il suo arrivo ti farebbe felice? Io non so se arriva Lo si dà per così Però non so se arriva Però è chiaro che lui è un giocatore Che può ricoprire diversi ruoli Sia tutta fascia Sia mezzala E in questo momento qui Non abbiamo alternative a questi ruoli Quindi potrebbe essere Una persona che ci potrebbe dare una mano Con questo passaggio dal 4-4-2 Al 3-5-2 Quello di Di Matteo Sarebbe l'unico arrivo dal tuo punto di vista Oppure ci potrebbe essere anche qualche altra novità? È chiaro che bisogna vedere Quali sono gli obiettivi da qui alla fine Insomma Però penso che il Presidente è carico Ci tiene a far bene Vediamo Vediamo quello che si potrà fare Vediamo anche le occasioni Che magari poi ci può offrire il mercato Però io sono abbastanza tranquillo Perché comunque la società Cerca sempre di far bene Quindi questa è la cosa più importante Noi da parte nostra Dobbiamo fare altrettanto Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo Io da parte mia Il lavoro che devo fare Con grande unità Grande applicazione I giocatori uguali E quindi poi vediamo poi la società cosa dice Novità di mercato anche in casa lucchese Prossimo avversario del Teramo in campionato La società rossonera ha annunciato Il nuovo team manager Si tratta di Vanni Pessotto Fratello del più famoso Gianluca Ex calciatore e attuale dirigente della Juventus A proposito della partita lucchese-teramo In programma sabato alle 15 Ascoltiamo il tecnico dei Toscani Il popolare Nanu Galderisi Dobbiamo sicuramente consolidare tutto quello che si è detto L'abbiamo già cominciato questa settimana E dobbiamo assolutamente migliorare alcune cose che vanno migliorate In generale Senza andare a uno specifico Credo che la cosa principale da migliorare È la gestione della partita È la gestione della palla La lettura dei momenti Perché credo che nel momento in cui siamo andati In vantaggio di un uomo Alla fine del primo tempo Io ho proprio detto alla squadra Che noi dobbiamo andare in avanti Come sempre Perché la prima parola che ho detto quando sono arrivato La mia squadra va in avanti Sia in possesso palla che in non possesso palla Niente facile Niente scontato Ma niente impossibile Perché l'abbiamo visto dei risultati Mi sembra un campionato tutto sommato Molto equilibrato con qualche squadra Che ha qualcosa in più Però ce la possiamo giocare con tutti Se riusciamo a diventare più bravi noi Allora noi dobbiamo pensare a noi stessi Per crescere e credere fortemente Che a livello di squadra A livello individuale Abbiamo un'autostima E una fiducia Nel credere che la palla Tirata verso la porta Vada sul pallo interno Non sul pallo esterno Io credo che è tutta una questione di convinzione Che passa però attraverso il lavoro L'iniziativa Individuale Rispettando il concetto di gruppo Gli ultimi due giorni Dedicheremo anche spazio A squadra che andremo ad affrontare Perché credo che Il massimo rispetto per gli avversari È l'arma vincente Di chi vuole ottenere un grande risultato E loro giocano con un 3-5-2 Un 5-3-2 Insomma Si coprono molto bene nel lato centrale E adesso vedremo un attimino Come organizzarci E adesso la palla a mano Il campionato di Serie A1 femminile Resterà fermo due settimane Per gli impegni della Nazionale Mentre in A2 femminile Il team Teramo Deve rispettare il suo turno di riposo Ferme quindi le squadre femminili Questa settimana L'attenzione generale Si concentrerà sugli impegni Delle due squadre teramane Che partecipano al torneo Di Serie B maschile La Lions Teramo Giocherà fuori casa a Pescara Mentre il team Teramo Riceverà la visita Della polisportiva Arcobaleno Di Osimo Il servizio Il campionato di Serie A1 femminile Si ferma due settimane Per lasciare spazio Agli impegni della Nazionale Che deve affrontare l'Islanda Per le qualificazioni mondiali In Serie A2 femminile Invece Il team Teramo Deve osservare il suo turno di stop Ferme quindi le squadre femminili Questo fine settimana Scenderanno in campo Solo le due squadre teramane Di Serie B maschile Il team Teramo In reduce dalla quarta vittoria Di fila Raccolta sul parche di Monte Prandone Monte Prandone È stata una partita difficile Perché complice La nostra disattenzione Abbiamo portato La partita Punto a punto Poi alla fine È venuta fuori La nostra esperienza Se vogliamo Negli ultimi cinque minuti Siamo riusciti Ad averla vinta I biancorossi Quindi vanno a caccia Della cinquina Sabato alle 18.30 Al pala Giorgio Binki L'avversario dei Teramani Sarà la polisportiva Arcobaleno Osimo Non li conosciamo Possiamo solo capire Dalla classifica Che sembrerebbe una partita Abbordabile Solo che Col fatto che non la conosciamo La tensione deve essere doppia In modo tale Da far nostra la partita E far crescere Anche i nostri ragazzi Partita sulla carta abbordabile L'imperativo De Biancorossi È uno solo Arrivare al big match Contro la capolista Cuschieti In programma tra sette giorni Con l'attuale distacco Senza dubbio Rilassarci È impossibile Anche perché Non ce lo possiamo permettere più Passi falsi Assolutamente nessuno Ci siamo già giocati Un brutto bonus a Chiaravalle Quindi basta così Trasferta impegnativa Invece per la Lions Teramo I biancorossi Sempre sabato Ma alle ore 19 Si presentano sul parquet Del Pescara Per confermarsi Tra le grandi del torneo Di Giulio È un momento molto positivo Sia per te Che per la tua squadra Nell'ultima partita È arrivata Un'ennesima vittoria La quarta Di questo avvio di campionato E per te È l'ennesima grande prestazione Stiamo crescendo tutti Siamo un bel gruppo Continuiamo a lavorare Cercando di migliorare Gli errori Stiamo facendo Un grande percorso E speriamo Di continuare così Ti aspettavi Di avere un impatto Così positivo Con il campionato? Non me l'aspettavo Però devo dire Un grazie alla squadra Che permette Di Veramente Di esprimere Un bel gioco Sono veramente contento Di giocare in questo modo Prossimo avversario Dove giocate? Giochiamo a Pescara È un campo molto difficile Una squadra Molto brava Perché si conoscono I giocatori Da molto tempo E speriamo di portare a casa Tre punti Che dimostrano Il nostro cammino Ci siamo un po' Dilungati Però vi devo ricordare Questa sera Su Teleponte Alle ore 21 C'è Inside Dentro il personaggio La trasmissione Condotta dal nostro direttore Roberto Almonti Il personaggio di questa sera L'ex direttore generale Dell'Asale di Teramo Sabatino Casini A seguire Alle 21 e 40 circa Controvento La trasmissione Curata e condotta Da Dorotea Mazzetta Oggi Controvento Ha puntato L'attenzione sul trasporto Pubblico urbano A Teramo Con riferimento Anche ai collegamenti Tra la città E l'università È davvero tutto Anzi no Domattina alle 7 Puntuali L'appuntamento Con Prima di tutto Grazie Arrivederci Buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti